Sai come mi sento adesso? Hai presente la più bella del liceo? Quella è inarrivabile, che ha tutto quello che un uomo può desiderare. Quella che pensi che non avrai mai. Invece poi scopri che puoi averla, che può essere tua. Perché ti bastano 17.590 euro? Alfa 147, finalmente tua. Fino al 31 gennaio con finanziamento a tasso zero e supervalutazione dell'usato.